Quando sei in certe situazioni dove non si capisce veramente niente, l'unica cosa da fare è catalogare tutti i vari fili, ok? Quindi qui si sa che è il meno, questi si sa che è il più e incominciamo a metterli tutti separati, quindi si stacca così, stacca batterie sempre staccato. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti!